Riprendi i tuoi viaggi in qualsiasi luogo e momento con Powershot SX230HS. La funzione avanzata GPS consente di assegnare dei tag alle immagini e di registrare i propri spostamenti, facendo di questa fotocamera la soluzione compatta da viaggio per eccellenza. Effettuare riprese in condizioni di scarsa illuminazione può risultare complicato. Utilizzando il flash, il soggetto che si sta riprendendo può apparire troppo luminoso e lo sfondo troppo scuro. Senza flash le immagini possono apparire sgranate. Con il nostro HS System potrai ottenere immagini più nitide e brillanti in condizioni di scarsa illuminazione, per riprese naturali senza l'uso del flash. Obiettivo grandangolare da 28 mm, zoom ottico 14x e stabilizzatore ottico di immagine per riprese a mano libera, ferme e nitide. La modalità raffica alta velocità consente di catturare le azioni più veloci. La modalità manuale, con priorità d'apertura e impostazioni del tempo di esposizione, permette un maggior controllo creativo. La funzione Smart Auto rileva fino a 32 scene e offre il meglio della tecnologia in quadra e scatta. Filmati Full HD in formato 1080p con riproduzione audio stereo, limpida e cristallina. Lo stabilizzatore d'immagine dinamico permette di ridurre le vibrazioni e l'effetto mosso dei filmati. La modalità filmato Super Slow Motion consente di rallentare il movimento in scene rapide. La funzione Video Diario registra una clip della durata massima di 4 secondi prima di ogni scatto per creare un filmato riassuntivo della giornata. La fotocamera è compatibile con video iFrame per un editing dei filmati più semplice. La custodia impermeabile opzionale permette immersioni fino a 40 metri di profondità. Riprendi i tuoi viaggi in qualsiasi luogo e momento con PowerShot SX-230HS.